Il personaggio di Chiara Marteggiani è una ragazza di 17 anni che perde il suo genitore in un incidente aereo. Si trova sola nel mondo, è devastata, completamente devastata per questo. In quel momento di solità lei descobre che suo padre aveva un amante. Decide di andare a conoscere questa donna un po' per trovare qualcun collegamento con il padre che non c'è più. E descobre che questa donna è un po' affascinata per questo mondo al che perteneva anche il suo padre. Si trova che va a vivere con Luisa, con l'amante del padre. Il film racconta un po' la relazione tra loro due. Il personaggio di Allegra, interpretato per Chiara Marteggiani, è un personaggio che ha difficoltà in amarsi a se stessa. Un po' per la perdita del genitore, un po' per la difficoltà che si trova al descobrire che il suo padre aveva un amante. Si trova in una situazione di gelosia profonda con tutti, specialmente con il ragazzo che le piace, con il che va alla stessa scuola, ma anche con la vita in generale. È molto diffidosa di tutto e più che niente ha difficoltà a lasciarsi ammarsi per l'oltre. Sì che è un po' anche un personaggio autodestruttivo. Infatti nel film alcanza delle quote di destruzione veramente terribili. E solo dopo che arriva allo peggiore, solo una volta che ha veramente caduto, gli salva tutta la testa contro il muro mille volte, impara la lezione e riesce a uscire avanti. E tutto questo, anche con il personaggio di Luisa, trova la forza dentro di sé per un po' per fidarsi con le persone che stanno accanto a lei e anche per trovare la sicurezza in se stessa e diventare una donna matura. Grazie. Grazie a tutti.